ben trovati siamo su basket life dopo la bella soddisfazione di domenica scorsa nella vittoria del derby contro la virtus roma probabilmente uno dei momenti meno belli una delle altre conclusioni tra l'altro meno felici da parte mia quella sulla npc perché viene da una brutta sconfitta però prima di entrare nel dettaglio do subito la parola a lara piccolo che vi ricorda come potete interagire con voi e questa sera credo sarà molto importante ciao a tutti ciao roberto come sempre vi ricordo che potete inviare tutti i vostri messaggi sulla nostra diretta facebook oppure al nostro numero whatsapp 392 63 55 552 scriveteci grazie lara veniamo subito a noi vi presento l'ospite di questa sera che è giovanni vildera benvenuto a basket life buonasera benvenuto a rieti life e benvenuto a rieti grazie non è tanto quanto è un mese no sei un mesetto sì sì preciso il benvenuto ufficiale te lo do così non è tra i migliori visto come è stata l'uscita di bergamo però insomma è di cuore senz'altro dai un minutino solo ne parliamo prima voglio chiedere a lara cosa è accaduto perché in effetti questa sconfitta di rieti a bergamo non voglio dire che era imprevista però poteva essere decisiva in un verso nell'altro una vittoria avrebbe proposto una classifica ben precisa la sconfitta molto diversa vediamo risultati classifica si andiamo a vedere subito i risultati la classifica con 34 punti in vetta troviamo virtus roma e capo d'orlando a seguire con 30 punti anni piccirieti bergamo con 28 treviglio latina grigento con 26 punti casale monferrato con 24 biella scafati trapani con 22 punti euro basket roma con 18 tortona con 10 legnano e con 4 virtus cassino dopo lo sconvolgimento della della situazione siena esclusa dal campionato quindi tolti due punti a chiunque avesse vinto la classifica si era leggermente rivoluzionata ed è vero ora si è rivoluzionata di nuovo siamo stati anche buoni perché rieti sarebbe solto a bergamo vista la differenza canestre importanti però prendiamo due blocchi prima seconda si giocheranno il primo posto a questo punto probabilmente virtus roma e capo d'orlando il terzo posto se lo giocano rieti e bergamo a seguire anche le altre che sono lì per carità però cominciamo a mettere attenzione su questo perché mancano ormai cinque partite e dobbiamo cominciare a farci due conti domenica prossima capo d'orlando non giocherà avete visto nei risultati non c'era la virtus perché avrebbe dovuto giocare contro siena ma siena è esclusa dal campionato è iniziato male già dal viaggio col pullman rotto questa trasferta è così purtroppo sì purtroppo sì è stata una brutta sconfitta per noi personalmente molto deludente anche imbarattante nel senso che prendere una batosta così è stato brutto però siamo fiduciosi per che sia un passo che possiamo fare un passo avanti da questa sconfitta questa partita prendere quello che è andato male e aggiustarlo per questo fine di regular season e per domenica prossima che è molto importante giovanni in teoria tu mi hai già fatto tutta la puntata hai parlato un po della partita un po della prossima poi io riprendo da capo il pullman rotto quanto tempo vi ha fatto arrivare più tardi quanta fatica in più ha inciso no secondo me se uno va a parlare di queste cose qua sono scuse trova trova alibi trova scusa ma cos'è successo poi è arrivato un pullman si avevamo perso della benzina si era fornato il serbatoio penso e però insomma e poi abbiamo aspettato un po in un'area di sosta ed è arrivato era un presentimento però che non fosse stata una trascetta semplice questa detto questo è proprio cominciata male la partita tecnicamente perché vabbè intanto partiamo da una scelta a livello di cronaca non ha giocato tomasini tomasini ma ha giocato gigli ed era un po una sorpresa dell'ultima ora ma in effetti non erano chiare le condizioni fisiche di tomasini questa decisione credo sia stata presa nelle ultime ore sì si è stata presa nelle ultime ore sicuramente simone preparatore lo staff stanno lavorando anche oggi per capire come come riuscire a a giocare domenica al meglio presentarsi nelle condizioni migliori cosa aveva una contrattura una contrattura non si è capito bene sicuramente non è qualcosa di di gravissimo nel senso che intendo che si deve operare qualcosa così però però non so bene cosa cosa una cosa di facili di soluzioni speriamo abbastanza brevi però comunque la scelta ha fatto diciamo ha portato rossi a decidere di utilizzare la possibilità di gigli che per fortuna c'è e un gigli che di solito due canestre abbastanza facili come quelli di inizio partita li mette dentro un bobby jones che attacca il ferro con un'efficacia straordinaria ne ha sbagliato tre e sono state cinque azioni consecutive veramente partita proprio male anche dal punto di vista tecnico questa partita loro prendevano canestro dappertutto e lì si è andati subito in salita in sofferenza sei d'accordo? sì beh sicuramente il parziale più grosso l'abbiamo preso nel secondo quarto però però allo stesso tempo non è facile giocare in quel campo là perché se si va a vedere proprio partita per partita che hanno giocato là tutte le squadre hanno fatto molta fatica o comunque anche le squadre che ci hanno vinto non è facile giocarci sia per per la squadra in sé Bergamo che è una squadra tosta che in casa poi con più energia ancora e che si passano la palla e quando cominciano a segnare altri punti soprattutto sono difficili da fermare quindi una cosa è successo a questa nel pc squadra grintosa che fa giocare male tutti gli avversari che magari ha perso anche ovvio in trasferta però sempre punto a punto una squadra che non mollava mai è la prima volta che Rossi dichiara siamo usciti a testa bassa cos'è accaduto durante questi 40 minuti insoliti perché insomma un divario imprevedibile tu all'inizio dicevi quasi imbarazzante sì beh sicuramente per un giocatore perdere così in questo modo cioè almeno io personalmente ho provato vergogna perché parlano sempre di parlacanestro quindi è sempre un gioco però personalmente la fastidio però allo stesso tempo è lo sport fa parte dello sport e bisogna accettarlo bisogna capire soprattutto perché è successo e le cose da poter migliorare per la prossima nel senso che uscire a testa bassa e dire è andata male insomma non è produttivo per noi e sono sicuro che il coach non vuole questo che i giocatori non vogliono questo sicuramente sono partite che purtroppo lo dice insomma la storia dello sport che possono capitare però siamo tutti giocatori di carattere secondo me in questa squadra quindi da questa partita possiamo assolutamente trovarne cose positive mi dispiace un po' è perché la prima trasmissione quasi ha beccato proprio lo peggio toccava a te di turno però è così lara credo che siano già arrivati dei segnali di intervento dal nostro pubblico sentiamo qualche curiosità sì abbiamo subito una domanda riccardo ti chiede tu e jackson siete nuovi arrivati a che punto è il vostro inserimento in squadra ma personalmente posso dire che è ottimo nel senso che sia con l'allenatore e lo staff medico fisico tecnico e coi compagni soprattutto benissimo dal primo giorno a oggi veramente mi hanno fatto sentire a casa mi hanno dato tutto quello di quello che ho bisogno e mi stanno coinvolgendo alla grande ma posso posso rimanere su questo argomento un attimo per chiederti ancora incide questo fatto che in una squadra si gioca in cinque d'accordo che sono dieci effettivi poi otto di fatto ahimè con l'infortunio di nicoli ci sia di nuovo ridotta però cinque che giocano due che sono praticamente tu e jackson siete due titolari e quindi c'è da conoscersi cioè i equilibri cambiano insomma ecco forse anche in questo senso a che punto siete come intesa come amalgama di squadra che lo saprai che ci ha giocato contro l'npc girava alla grande se non sarebbero atta seconda in classifica assolutamente e tra l'altro girava alla grande spero giri ancora la grande perché si passa la palla secondo me c'è una una voglia un desiderio di condividere di condividere responsabilità condividere tiri possessi difesa in difesa soprattutto è una difesa proprio di squadra proprio collettiva dove non c'è una responsabilità individuale precisa dove non si punta al dito ma si cerca di non far segnare l'altro e questa è una cosa secondo me che ho visto molto molto bene da da fuori e da dentro è proprio chiara palese e dalla forza di quella squadra se dovessi dare una percentuale di inserimento dei nuovi cioè te jackson che percentuale ci avviciniamo quanto ancora manca poco affinché l'orologio torni a girare con perfezione anche con i vostri inserimenti che siete totalmente diversi tu da gigli bilder da gigli e jackson da adegboie si sicuramente detto bene tu siamo due giocatori diversi quindi l'amalgama che si formerà sarà una cosa diversa non vuol dire più negativa un altro tipo di squadra un altro tipo di squadra detto questo io e antino siamo enti siamo due due giocatori due persone che non non vogliono veramente rompere equilibri o creare creare disastri ma assolutamente no tra l'altro la prima caratteristica che guarda questa società da sempre sono le caratteristiche umane prima ancora che tecniche però io infatti volevo parlare dell'aspetto tecnico non umano proprio a livello di di amalgama di ruoli di posizioni di uno cosa sa fare come ci si accoppia e con i compagni e come e con gli avversari lara vedo che tu lì mi mandi segnali scalpiti siamo contenti allora c'è una domanda da parte di ivano panetti che salutiamo ciao ciao ivano il nostro marchio di fabbrica è una difesa intensa subire 51 punti nei primi due quarti vuol dire non aver difeso stanchi mentalmente ecco la domanda di ivano ti ringrazio ivano io me l'ero segnata perché avevo scritto così più o meno caratteristica dell'anepc è l'aggressività la difesa intensa sta avvenendo un po meno sta cambiando qualcosa o un episodio anche a seconda di quello che chiede ivano ma no secondo me secondo me è un episodio ma nel senso che è un po tutto il campionato della lega 2 che è così nel senso che quando sei in trasferta e vedi che gli avversari cominciano a prendere ritmo a segnare tiri puliti piazzati tu prendi ti scoraggi secondo me almeno quello che la mia opinione è quello che ho visto in questi anni è proprio questo che la difficoltà in trasferta di difendere quando quando l'altra squadra comincia bene la partita però assolutamente non non si può parlare di stanchezza secondo me perché nonostante siamo alla fine della regola season abbiamo tutti la voglia di giocarci questa finale stagione per arrivare playoff beh paradossalmente l'energia tua è di antimo vabbè a te boi ne metteva tanta insomma conosciamo la situazione di angelo il capitano è venuto qui a dirci le condizioni quindi le conosciamo pubblicamente le abbiamo dette pubblicamente è chiaro che la tua energia la tua forza fisica la tua disponibilità a un'età diversa dei diciamo meccanismi anche fatti insieme con tutti gli altri compagni dovrebbe portare energia fisica e probabilmente c'è stato un risvolto più mentale a questo punto come dici tu di approccio a questa gara perché giustamente ivano dice noi concediamo 51 punti in una partita sono stati concessi in due quarti la cosa più evidente la prima difesa è anche facile la prima difesa del campionato che subisce 51 punti in due quarti salta all'occhio sì sì no ma assolutamente è una cosa che noi in primis non possiamo accettare perché perché non ci non ci appartiene non appartiene a questa società questa squadra detto questo bisogna non autoflaggellarsi e deprimersi ma capire cosa si è sbagliato riguardando la partita e ripartire dal primo allenamento per la prossima senz'altro senti è un po' diversa la tua situazione e posizione con gigli cioè i meccanismi sono diversi no cioè simone tomasini è un 2-3 svolge un gioco diverso diciamo un ruolo perimetrale vi siete trovati praticamente quattro lunghi di fatto tutti diciamo importanti di spessore con carenza che ha dovuto giocare anche da tre in alcuni momenti cosa è cambiato per te la presenza di gigli rispetto a quella di tomasini o il contrario in questo specifico questa gara ma sicuramente angelo c'è ha fatto una carriera che se nessuno commenta di discussione certo cioè contento di farne solo una piccola parte proprio in mezzo al campo c'era qualcosa di diverso ma sicuramente è un altro giocatore rispetto a simone quindi altre caratteristiche quando in campo lui la squadra gioca in maniera diversa rispetto a quando aveva con simone nel senso che però non cambia niente siamo due giocatori che secondo me in futuro avrebbero potuto giocare insieme anche magari però però comunque non cambia niente per la squadra siamo due giocatori che ci tengono a vincere le partite e a dare il proprio contributo c'erano dei tifosi tra l'altro dei tifosi che si sono un pochino confrontati e scatenati sui social perché insomma arrivare a bergamo non è per loro è sempre una passeggiata perché sono carichi di entusiasmo sono felicissimi di seguirvi è chiaro anche lo stesso coach rossi in conferenza stampa tra un attimino lo sentiamo era dispiaciuto anche per loro questi tifosi che poi sembra così ha fatto questo gesto di togliere gli striscioni ma poi rientrata insomma l'amore rimane immagino anche questo vi sia dispiaciuto ancora più vista per questa gente che ha fatto 700 chilometri per venirvi a vedere sicuramente sicuramente poi ricordando ancora le emozioni che ci hanno ci hanno dato domenica scorsa contro contro la Virtus in casa e come ci hanno tirato su da almeno 21 dispiace ancora di più mi dispiace ancora di più perché sappiamo che che sono gente che ci tiene ci tiene quasi quanto noi forse e quindi dispiace e l'unica cosa che oltre che chiedere scusa per la brutta partita possiamo solo imparare questa sconfitta per per domenica perché domenica è molto importante io ti ringrazio ti fa onore mi piace sto fatto che tu così giovani chieda scusa già un pubblico così caldo che già l'hai avvertito ma chiaro non c'è da chiedere scusa insomma prima di tutto sono ragazzi oltre essere professionisti anche la disponibilità di mildera questa sera o comunque già pensare a riscattarsi vuol dire tanto proviamo a chiudere il cerchio con i coach allora cominciamo da coach alessandro rossi a termine della gara in sala stampa un minuto in cui ci racchiude un po le idee dei pensieri e il pensiero di questa sconfitta difficile anche da commentare l'analisi va fatta innanzitutto scendendo un po in due parti cioè prima di tutto complimentarsi con Bergamo per aver fatto una partita di altissima qualità anche non solo al tiro ma anche proprio nelle scelte offensive nella qualità del gioco hanno sempre messo un giocatore nelle condizioni di prendere un buon tiro noi oggi siamo mancati quindi io come responsabile tecnico della squadra chiaramente in questo senso tutta la responsabilità di questa brutta sconfitta dobbiamo assolutamente interrogarci sul perché che cosa è successo abbiamo fatto poco se non nulla di quello che avevamo pensato di fare quindi in gran parte c'è il merito dell'avversario però noi oggi siamo usciti dal campo un po a testa bassa per la prima volta e questo è un grandissimo rammarico onestamente perché soprattutto vedere tanta gente ci viene a seguire anche così distante da rieti che comunque fa questo tipo di sforzo è stato un peccato non premiati almeno con una prestazione positiva degna insomma in questo senso quindi niente ne assumo tutta la responsabilità di questa brutta serata e mi auguro ecco che riprenderemo con uno spirito diverso per prepararci al meglio con la prossima partita con la Leones beh lo spirito è questo insomma di pensare già al prossimo volevo parlare un attimo con Vildera delle percentuali di Bergamo incredibili cioè che Taylor e Roderick fossero due fenomeni lo sapevamo però a un certo punto tirava casella da tre faceva canestro senza problemi è entrato Zugno e lo sappiamo che ha una buona mano faceva canestro fattori ce l'ha su tiro da tre ma percentuali da paura gli entrava tutto sì sì loro sono una squadra che anche a loro piace molto coinvolgersi e hanno due americani che oltre ad avere un talento clamoroso perché Roderick è un giocatore che avrebbe potuto giocare in NBA tranquillamente secondo me o a livelli superiori assolutamente però gli piace molto coinvolgersi e quindi quando la palla gira e sono in fiducia poi anche gli italiani rendono benissimo in quel sistema là e si è visto domenica Lara abbiamo ancora un intervento sì guarda però prima volevo leggere una bella riflessione di Giuliano Colarieti che salutiamo ciao Giuliano la ricerca ogni volta del perché del per come mi lascia sempre indifferente le partite hanno sempre una loro storia di fatto però può succedere che dopo un campionato così dove noi abbiamo dovuto lottare contro tutto e tutti un po' di stanchezza mentale ci può stare sono umani grazie Giuliano ti saluto anch'io caro amico di tantissimi anni che abbiamo fatto anche tante cose insieme ma sai che il mestiere faccio per hobby o comunque per passione se un giornalista non fa domande non si chiede perché finisce una storia tu scrivi libri e giustamente o raccogli fotografie o fai parte di un entourage e quindi accetto molto molto volentieri e con gran piacere questa questa tua frase questa tua interpretazione però un minimo noi dobbiamo pur chiedere insomma la gente se lo chiede senza lo spirito ipercritico reatino per carità lo sapete che non ce l'ho mai avuto come stile quindi figuriamoci adesso che questi ragazzi hanno probabilmente bisogno e prima di essere ringraziati perché hanno fatto un campionato straordinario e incoraggiati perché si stanno affacciando a dei playoff che possono rimanere veramente storici quindi magari è meglio questa che non la prima gara di playoff persa così Lara non te l'ho interrotta perché c'è altro vero? Sì Riccardo ti chiede c'è possibilità che la squadra arrivi prima? Riccardi stasera sono caldi che la squadra arrivi prima rispondi tu perché io ce l'avrei la risposta La matematica non ci condanna nel senso però secondo me non ha neanche troppo senso pensarci cioè per noi come giocatori è meglio pensare a una partita alla volta e che ogni partita per qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa faccia Roma o Capodorlando ha la sua importanza e quindi giocarle come se fossero tutte l'ultima delle finali Però che spirito, anche i tifosi che pensano dopo una sconfitta così ancora voler arrivare lì Bellissimo Ce n'è ancora Lara quindi Un'ultima domanda che ti fa Giovanni e ti chiede Giovanni come ti sei trovato a Riedi arrivando così a campionato inoltrato? Bene, molto bene, ho avuto un'accoglienza calorosissima anche da parte di tutti i tifosi veramente Mi hanno scritto e accolto anche proprio fisicamente nell'appartamento Veramente non mi era mai capitato una cosa del genere Quindi oltre ai compagni come ho detto prima, l'allenatore, la società e anche insomma il popolo latino veramente mi ha colpito Senti Giovanni, io volevo farti io invece una domanda Fatichiamo un po' nei tiri dall'arco Domenica ieri veramente brutte percentuali, 3 su 25 E in questi casi abbiamo comunque gente forte anche sotto, te compreso E non è la prima partita in cui accade che si stenta E non vorrei che poi gli avversari prendano le misure su questo Fermo restando che Casini o Tomasini o Jackson possono ritrovare la vena o carenza stesso In una partita e magari infilano 10 triple consecutive Però tecnicamente questo aspetto, ne avete parlato, da cosa può dipendere O in allenamento non è così? No, sicuramente noi questo particolare tecnico qua lo si allena Abbiamo giocatori che sono degli specialisti anche di questa statistica qua Detto questo, può dipendere tanto anche dalla situazione, dal momento della partita Dalla fiducia, perché comunque la palla canestro secondo me è uno sport di fiducia E quando ti senti carico, emotivato e proprio in fiducia Di segnare quel tiro, la palla entra più facilmente Beh, sono partita, basta vedere quello che è successo nell'ultimo quarto Alla Virtus Roma e cosa è successo a Rieti Che chiunque tirava, Bonnacini compreso, Jackson compreso Casini che ha aperto questa danza trionfale, questa marcia trionfale E invece domenica nessuno riusciva a trovare la via del canestro Se guardiamo Bergamo, comincia ad entrare la prima, entrano tutte Probabilmente anche perché dei tiri liberi si sono trovati Arriva la Leonis, arriva l'Eurobasket domenica E ancora una volta non sarà una partita banale Perché prima di tutto è un derby Così come è stato quello di domenica scorsa contro la Virtus Roma Non so se tirerà ancora di più o un po' di meno C'è un altro aspetto ovviamente Che da oggi, da domani comincerà di nuovo a navigare sui social Che è la Leonis, l'Eurobasket di Roma È allenata da Luciano Nunzi Che tu, non so se lo sai, ha trascorso sei anni qui a Rieti Ha portato la squadra in Serie A2 Ha avuto un periodo bellissimo Poi è uscito invece con qualche critica Però insomma è un allenatore che ha veramente dato moltissimo A questa città come tecnico e non solo Ma domenica sarà un avversario Quindi probabilmente non sappiamo il palazzo come si schiererà Quanti saranno ad applaudirlo o quantomeno Però anche questo è una nota di cronaca Insomma è importante Il merito è tanto perché ha veramente dato molto A mio avviso questo allenatore Poi ovviamente ognuno ha i propri difetti E magari qualcuno li ha messi in risalto Però avete visto la Leonis Poco fa abbiamo fatto la schermata Una squadra che ci ha battuto anche male Tra virgolette Nel senso che era una partita che si poteva anche non perdere Fuori casa contro la Leonis Ora non è in un grandissimo periodo di rendimento Però comunque è un derby E comunque ci vuole di nuovo il carattere dell'NPC Prima dicevi siamo tutti ragazzi di carattere Ivano diceva Il marchio di fabbrica è sempre stata l'aggressività Mai come domenica Secondo me bisogna rimetterla in campo per riscattarsi Quindi ti richiamo alla prima intervento Hai parlato domenica a Leonis Ora è il momento Vai No sicuramente è una partita importante Per la classifica Ma soprattutto per noi Perché dopo una partitaccia così Per noi come persone Come giocatori Ci teniamo proprio singolarmente Secondo me a dare dimostrazioni Di quello che possiamo fare Poi anche loro sicuramente Non verranno qua proprio tranquilli Rilassati Perché anche loro hanno perso male L'ultima E quindi sarà una bella battaglia Secondo me Ce le daremo di santa ragione dall'inizio alla fine E poi vedremo chi vale meglio Grazie Sei pronto? Di solito io faccio il 10 su 10 con i giocatori Soprattutto quando vengono la prima volta Puoi scegliere da 3 Dai tiri liberi O da 2 Fai tu Però devi fare 10 su 10 Vai proviamo Allora cominciamo dal calcio Come sempre Come spesso faccio Insomma per gioco Qual è la tua squadra del cuore? Attenzione a come rispondi Però devi essere sincero Non sono un gran tifoso Dico Juve E calcio Padova Mi pare promosso Possiamo anche chiudere qui La trasmissione volendo Però va benissimo Andiamo avanti La numero 2 Invece nel basket Al di là di Rieti Che ho la tua squadra Per chi fa il tifo? In che senso dici? Cioè uno è tifoso di Milano O di Bologna O di Ciasiena Ma io sono cresciuto Nelle giovanile a Venezia E ho un bel ricordo Di quella società là Ebbè non è poco Quindi sarei contento Se magari io rinincessero lo scudetto La squadra più forte Del nostro girone Qual è secondo te? La squadra più forte Del nostro girone Che personalmente Mi ha dato più fastidio In tutte le partite Che c'è Quando c'è giocato contro È stata Bergamo Bergamo? Bergamo Invece l'avversario Più difficile Diretto che hai incontrato? Oddio aspetta Scusami Quello da marcare Più difficile Ah ok Direi Sims Di Roma Ma anche Sims Di Biella Con cui ho giocato insieme Che ha giocato anche qua Lo conosciamo È una bella bestia Perché hai scelto Di venire a Rieti? Perché Che la società mi voleva Ancora quest'estate Mi piaceva il fatto Che Che ci fosse Una squadra così A aspettarmi E Mi sembrava Un'occasione d'oro Da dover sfruttare Il Palazzo Giurnere È il palazio più caldo Dove hai giocato finora? Uno dei più caldi Sicuramente Domenica È stata Dove incontro la Virtus È stata la partita Per me è più calda Dove sono mai stato Cioè dove ho mai giocato In allenamento Chi ti fa più male? Nikolic, Jones O Gini O Carenza Di solito sono io Che faccio male agli altri Purtroppo Però Vale anche questa Però Però Almeno così mi dicono Però Però sicuramente Angelo E io ce le diamo Di santa ragione Hai un gesto scaramantico Prima della partita O durante In una fase in cui decidi Ora devo fare questo Così porta bene? No Scaramanzia no Niente Al massimo E allora Peppe Gattani Non ti conferma Se lui si parla di tutto Si parla di scaramanzia Mi spiace Io quello niente Passiamo alla nona Farai 9 su 10 Non importa Il tuo hobby preferito? Il mio hobby preferito Ma sicuramente D'estate Andare fuori con gli amici Avermi uno spritz In piazza A fare due chiacchiere Senti L'ultima invece Qui Se è tempo a non tradirti Il tuo piatto preferito Considerando che sei A Riedi da un mese Ahia Io punterei Insomma Sono di Padova E sarei un po' Un po' campanilista Su questo Direi Una cosa che mi preparava Per fare sempre mia nonna Che è la polenta Con il latte E lo zucchero Polenta bianca Con il latte E lo zucchero Ti do un nome Perché qui Mi aspettavo la matriciana La carbonara No Così era troppo da paraculo Cioè dai Non si può C'è ragione Allora Promosso 10 su 10 Da buono pure quella di prima Lara Siamo in chiusura A te Grazie per averci seguito Vi ricordo che potete Rivedere questa puntata Su readylife.com E su tutte le nostre pagine social L'appuntamento È per la settimana prossima Sì L'appuntamento è per la settimana prossima Ovviamente ci vedrete online Durante tutta la settimana Soprattutto l'appuntamento è Domenica alle ore 18 Al Palace Journal NPC Rieti Contro Eurobasket Leonis Roma Ovviamente Altre derby Altra partita da non mancare Grazie davvero di cuore A Giovanni Vildera Di essere stato qui con noi In bocca al lupo Forza E dateci di nuovo soddisfazioni Grazie soprattutto a voi Che ci seguite sempre E buon proseguimento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti